Vai decidi tu Dimmi tu pick Dimmi tu build Vai You choose Ok Chat facciamo angolo rotture? Sono sicuro che la tua chat all'angolo rotture direbbe sempre di sì dubbio Eh sì Già lo sai Banna Yumi Come Dark Harvest? Dark Harvest certo Presence of mind giusto per Sì nel secondario puoi mettere quello Puoi mettere le mana flow Se preferisci Vedi un po' te Lo metto presto Dove ti porta il cuore Dove mi porta il cuore Vado di ultimate hunter giusto sì Anche lo stop c'è carino perché Alzo perché la zonia Quando ti ingaggiano tutte le angolo rotture Guarda bellissimo Tutti in vanno Sì 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 Senti Zonia è troppo da pussi Ma non è questione da pussi È che loro Si lanciano in mezzo Andiamo TP entrambi no? Boi l'ignite lo metto Tu sai va andare TP Ma entrambi TP andiamo prima nell'angolo rotture? Però metti il TP No allora entrami ignite Ho messo lo stopwatch dai Poi ti Ok dai Vieni Come si dice De strorcio Dai su iron son bot So My brothers Noob Ecco Vedi È morta È morta È morta È morta Basta va top lane Metto la ward qua Vediamo se stanno camperando Che qua dopo la kill in genere Ecco ecco visto Ok Ma Leona ha fatto tutta la combo È pazza Ha fatto auto Q auto? Si Minchia Fortissima Sono meglio di Mi teammates Ok Vediamo da dove passano No vanno da sopra Facciamo la pussi Vai vai Menali Menali che Oh c'è Gragas Niente Ok Bravo Gragas Aspetta Adesso ti vado addosso Così che Gragas torna No Gragas Vai che spruzzo la merda Madonna Tre secondi di blind Deve essere un incubo Per una di care Comunque Si Adesso è due Però maxandolo diventa tre Mamma mia Tre secondi In cui non fai nulla Veramente Non so se l'ho mai fatto Il team full cooldown Redaction Così che Porti l'acqua Tre secondi E ce l'hai Tre secondi E Facciamo Timo Yasuo Tipo io spammo Windwall Tu spammi il blind Oppure Timo Queen Timo Queen Timo Queen Facciamo la Facciamo la bot Dei Dei cechi Eh ci può stare Timo Queen Vai Dopo la facciamo Se vuoi Contro la di care E' buona Lo giochi tu Timo Io lo gioco adesso Non ne voglio Aitare l'altra Per Ok va bene Ok Pia testa bocellata Ok Guarda qua Spruzzo la sborra Ma è rimasta ferma Ma E quanto parli piace Giusto La sborrata Il velone di Timo E' bellissimo Per preventare Carvest Oh no Oh no E flasha via Oh Oh my god Aiuto Il Timo di Bologna Rubiamo questo Rubo Rubo Il Timo sotto i portici Baitiamo qua Dobbiamo essere a loro Vieni 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 stealth Vieni stealth Qui dobbiamo baitare Ma facciamo il gold reset No no Facciamo il bait Ma io non voglio intare Ma dobbiamo Perché E' per il bait Guarda sta già intando mid C'ha 7 mino Dal minuto 4 Vedi 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 che la baitiamo Eh E che dobbiamo fare Cosa la baitiamo Viene in Flash out E facciamolo all in Guarda qua Opla Vedi Eh Ok Bravissimo Ah volevo solo avere Lost chapter in realtà Ti ho convinto in un modo Perverso però Ah io ce l'avevo già Non lo sai Vabbè Ah costa meno Ce l'avevo Non costa più 1.3 Costa 1.100 Vabbè Ho il dark seal in più Guarda Stanno intando Noi abbiamo fatto 3 kill Siamo 4 a 4 Ti volevo convincere Tipo Tipo mia madre Che tipo Mi doveva portare dall'oculista Però diceva No no Andiamo all'acquapark E poi mi portava dall'oculista Un giorno me lo fece davvero eh Io stavo troppo al computer no Quanti anni Tipo 19 No no Dai Ma Tipo Tipo Quindi Silverio Andiamo all'acquapark No 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 Non sto scherzando A 13 anni forse Non mi ricordo E mi disse Andiamo all'acquapark Una roba del genere E poi mi portarono dall'oculista Mi ricordo che Che poi Seconda cosa più perversa E che Per la strada All'oculista dove andammo Che fu Era tipo un paese Qua vicino Passammo proprio davanti a un'acquapark E quando ci passammo oltre Io rimasi tipo Un attimo Mamma Dove Dove mi stai portando Figlio lo faccio per il tuo bene Ti giuro È stato È stato traumatico Mi dispiace Mi dispiace Estremo sacrificio Che poi Mi ricordo che Me ne tornai piangendo Perché L'oculista mi disse Che continuando così Gli occhi sarebbero peggiorati Avrei dovuto giocare Tipo Mezz'ora al giorno Un'ora al giorno Massimo E ho detto tipo Nanna ti attacchi al cazzo Divento Divento cieco Poi mi lasero gli occhi Stagli 23 E in realtà Da allora Ho ancora tipo 1,25 1,5 Sugli occhi Quindi vaffanculo Oculista Ok Me li lasererò fra poco Io ci sono stato Tantissimo Avanti gli schermi O 10,10 Beato te Edz Ecco Ho appena il dark harvest Maledetta Sborra Ma ingaggia Ma Ma che cosa gli succede Cioè Questa qua Tipo È veramente il meme Della scimmia Che fa neuron activation Non ho presente Però Te l'ho detto Che funziona così Cioè le torrette Non sono una minaccia Alla leona Si è chiuso il cervello Ha detto Vai in Ok Sì capo Vado in Arriva lo stun Arriva lo stun Sborra Sì capito Oh Oh 15 hp Ah facile Passerebbe un bel dark sea Io non l'ho preso Purtroppo Oddio No Ma da stunnato Mi avete attaccato No L'aveva già caricato Mi sa Eh si Potevo flashare Ma alla fine L'ha detto No Avrei dovuto Fuck Cioè fungi Evviva La mia chat bastarda Grande dedo Finalmente l'ello che ti appartiene Oggi ho perso 5 games di fila Ho fatto la sua maliquità di meeting mates 53-134 Fieric In 5 games È andata molto bene devo dire Non esiste l'OL No 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 La loser queue no No ma è bugia Devi essere forte bro Sei forte Eh si 53-134 Cioè manco se sono intentional feeders Fanno uno score del genere I nero sono più bravi A me ieri è capitata Una partita E mi ha fatto smattare In 23 minuti 89 kill 89 kill Io ero contro Ero top lane con Garen Perché Ah però avevo Garen Con qualche oggetto crit Con la statica e così Mi sono beccato Contro un Rek'Sai Smurf Top lane Io non avevo mai giocato Contro Rek'Sai È forte Rek'Sai in lane Eh si si È forte Rek'Sai in lane L'ha abusato perché Cioè io non conoscevo Niente il match up Perché chi cazzo gioca Rek'Sai top Poi in iron Figurati E niente Quindi l'ho preso al culo Perché sto inizio qua Ma Un po' stompato Cioè Parliamo di tipo 2-4 Che per me già È stompato in iron Si 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 Ovviamente iron E poi Intanto Nel resto della mappa Succede di tutto E vabbè Alla fine abbiamo vinto Però cazzo 89 kill In 23 minuti Cioè era Lancio grosso E ci ho provato Dobbiamo entrare Nell'angolo rotture Qua soon Eia Guarda guarda L'abeto ora Ma è una c'è la ulti Vuol dire che ci ingaggierà Tra tre secondi Eh si Vamos Eccola Visto Così funziona In armo Ingaggiano Ha ingaggiato su di me E poi è andata su di tempo Guarda qua Vuoi vedere il trickshot? C'è la ulti Trickshot Incredibile Incredible Incredibile Oh c'è il ragazzo Lo baitiamo eh Lo baitiamo full Ma Ha doggiato il fungo No ma Sotto torre Mi sono ritrovato sotto torre Per sbaglio Ok io ho solo il mana Per una niente In realtà Non importa Prende la torre Eh metti lo stop Ci dobbiamo mettere Presence of mind Sì 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 Tiene il fungo no? Usa il fungo Bravo Aspettavo che si accumulassero In modo tale da prenderli tutti Sì Vedi che non sei un giocatore Esperto di team come me Vedi che ce l'ha al set Te lo giuro L'ho giocato un sacco Secondo me è fortissimo Tipo in tu Camille non gioca Ok fatto questo Cioè penso che l'esperienza più Orribile Al mondo Si è giocare a Camille in tutti Perchè non mi fa comprare Sono lontano giustamente Ok Allora vado a Zonia Ok possiamo Adesso tiriamo giù la T2 E andiamo subito a fare l'angolo rottura Ma io ho preso due ping Così le metto davanti E le hittano Vedi questo è il game perfetto C'hanno soltanto un team Che possono ingaggiare Non poca E i nostri alleati sono mediocri 1 2 0 1 3 4 Perfetto Perfetto Il game Vedi 5 plate top 3 plate mid Nessuno fa un cazzo Questo è il game perfetto Per eccellenza in iron Il team nemico è scarso E il nostro team è peggio ancora E qua si possono fare le merdate Le merdate Le merdate Olaf 4 1 che si lancia le mezzo Ok Ok Benissimo Stagli 23 Non sta puntando da Il signor stagli Andiamo qua? O com'è? No no dobbiamo pusharla questa Sennò non ci cagano Perché non arrivano i minion Quindi non hanno motivo di Mamma mia Perché se pushiamo questa Quando arrivava i minion Minacciavo un po' la torre Così con Oh cazzo Bisogna ucciderli Bisogna ucciderli Ci ritiriamo le angolature Da lì è storia Leona non si diverte Quasi Ecco questa è un'esperienza infernale Sborra No Quasi FF 15 No no Cioè Olaf Fiddato Vai Ah giusto Wotab premuto Olaf Fiddato Guarda lì 6-1 Figuo Perfetto Non può essere manco blindato Però questo è un problema Per quello c'è la zona Vero Vero Vai Eccoli No vabbè Ma cos'è questa forza Questo lean Rimani stealth Ah Cioè è arrivato Gragas in quel momento È stato molto sfortunato Il timing Vero calare lì È tipo È tipo chiedere La morte Tanto non è guardato Stavi lì a suonare il flauto Tranquillo In mezzo Dici dei micili Nel dubbio Suoni il flauto Andiamo Andiamo C'ho la zona Fra 2000 gold Undo 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 Ho preso lo bivio un orb Così siamo già pronti Quando ci sarà Oggi niente skin custom Fuck Ci hanno dimenticato Vabbè Si usa sempre per del fascino Bisogna farlo quando si ha qualcosa Da creare Da mostrare Cioè quando abbiamo fatto la bottone Nell'ishrek È stato bello La bottone di minecraft È stato bello Cioè il game un po' meno Però Con la di shrek è stata strabella Sì Sto prendendo un po' di exp mid lane Che mi serve Non mi piace questa sua Autonomia Eh ma mi serve il livello 11 Per spammare i funghi Oh Questi sono soldi Molto bene Non devi dare a bisogno Ovviamente no Io sono Ding ding donger Ok Allora Prendo il mejai E ci parcheggiamo lì Ok Mi piace che Naro Non si rendono conto Di nulla Tipo dal fatto Che stiamo stompando Che Sì sì Guarda Noi possiamo stompare Così tanto Se adesso non so Salper va top E fa la kill Quelli si lamenta Delle SS Se non è così XD glielo scrivo Ok Che sta facendo No Gragas Andiamo Harold Lo stesso Ma sei 8-1 Harold Eh sì Mi serviva Vabbè dai Faccio livello 9 Va bene Metto comunque Un bel po' di funghi Faccio anch'io Lo stoppo Devo andare per la zona Adesso Forse l'oblivion Non so se è stata La scelta migliore Perché tu dai Sti cazzi Così giusto Se arriva Olaf Cazzo la contro Non c'è Vabbè C'abbiamo due Trinket Rossi Ce la faccio Andar bene Speriamo che Leona Si dimentichi Chi che è ingaggiando Muore E lo rifaccia Ma sono tutti qua Beh sono il solito Ma what Hanno fatto Questo è Oltre l'Iron Mi hanno fatto Il flanking Due Super jungle Si stanno evolvendo Un pochino Si Ok tranquillo Purtroppo non c'è Il drago godlike Dell'angolo rotture Cioè Quello che è CDR No non era Perché Perché stiamo lì Perché stiamo lì parcheggiati Un anno E quindi Con quello ci fuoriamo Eh ma quello L'extech è il migliore No? L'extech dragon Dimmi che esce infernal Il chemtech No Eh il chemtech Però non è male Il fatto che siamo sempre low pure No? Si è vero Chemtech non è male Madonna mi manca Non gli andri Perché Perché non funziona Gran che bene Tutti i molli andri Cioè per i funghi In realtà ci sta Però l'udence è male Mi manca il Il vecchio Drago Quello là Extech Che diventava invisibile Era una delle cose Che mi piaceva di lol Te lo ricordi A te piaceva? Faceva diventare Quello stealth Si si Ti andavi in mimesi Quello che ti faceva Tutta quest'area in mimesi Ah si è vero A me piaceva un sacco Non so perché Ci si lamentavano tutti Cioè più che altro Per me piaceva perché In iron ci facevi le merdate Eh ma io anche In master ci facevo le merdate Però boh Dicevano che era broken Perché vabbè ci sta Devi ignorare tutti i setup E tutto Vai andiamo all'angolo rotture C'è già Oh un attimo Prima Mettiamoci tutti qua no? C'è che ragaz qui Eh lo ignoriamo Eh ma non c'è i funghi No c'è anche Ione Senza i funghi Ma ce la facciamo tutta Quanta gente c'è qua Che sta succedendo? Ho la zoria in 2 1 Ok Ulta milione Ok Conquistiamo Conquistiamo Oddio È quello grosso È quello grosso È il raid boss Lo sborro tutto Rompi rompi Ok Orco Oh Vieni vieni Dobbiamo setappare Eh ma Vieni nella safe zone No Stavo per sbrovare di nuovo Ma sono tutti gruppati Ma perché sono 9 persone? Questi arrivano tutti in insta È incredibile È che è perfetto È perfetto Come deve essere Eh ma non così presto Non ce lo fanno manco fare Che sono 5 bot Eh ma perché arrivano tutti i nostri aliati Per non si sa quale motivo Go top guys Scriviamo E poi Go 3 top Prendo qualcosa Ah sta stampando Guarda 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 come è brava Non si sa come Era 0-4 tipo Guarda usa anche Leona stunna il minion Leona Mi direbbe Torna indietro Qui sul minion Flash out Ok Adesso ci sono già due funghi Io sono all'11 Quindi vuol dire che Spammo funghi Adesso E' di famiglia E' di famiglia C'è il Gragas qui Arriva Cerco di pushar Il gorilla è crollato E' il fratelli di Dara Per cui si stesse chiedendo Arriva Bene Ora vedi Per attirarli Basta pushare qui Vai Tu push Hai una bella W qua Vamos L'ho un po' lisciata Vabbè No no problem Visto così Adesso la wave è lì Adesso arriverà un po' di gente Guarda Ma gliela puoi lasciare Oh No no Sarebbe questo Non si può entrare Nell'angolottore La control E' fuori range Ah ci arrivo Ah ci arrivi Godo Ok pure io Bene bene Vai ha sprecato la control Scemo No Questo è più lontano No Ma come fa a essere così intelligente Andare anche a togliere Per flashare via Però non serve Tanto poi ne mettono un'altra Cazzo Quella ci countera Non eravamo mai arrivati a sto punto In iron Eh no Si sono evoluti un sacco Io finirò il mana comunque Lo stop Ce l'è stata una grande idea Gragas non è svegliissimo Arrivo Muoiono tutti Godiamo Quasi Godiamo Vado di AR Così posso spammare GG GG Oh sono comunque Questi Nah No Che palle Che palle Eh purtroppo Vedi Tu dici Potevano ignorarci Sì Ma noi eravamo la minaccia Dovevano essere lì Dovevano ucciderci Perché noi non dovevamo Permetterci Di Di fargli questo affronto Stare lì davanti Al cancellino No E bloccagli così Il passaggio Sono arrabbiati molto Bro Mi ha Però detto che Vapore Non è il pokemon Più scopabile Però c'è Conkeldur Dove è uscito questo discorso Scusami No Mi hanno appena detto Che Vapore Non è il più scopabile